Lo sfogo del CT della Nazionale Azzurra di Calcio, Antonio Conte, non è passato inosservato ed arrivano le prime in importanti reazioni. Prima di tutte quelle del numero uno del CONI, Giovanni Malagò. L'ho sentito e lo condivido. Ha detto cose vere, giuste, che secondo me sono da monito per tutto l'ambiente. E credo non lo faccia per un discorso egoistico, ma per l'intero sistema. Su di lui si schiera anche il numero uno dell'affice Città Vecchio, dicendosi soddisfatto dell'operato di Conte e che farà di tutto per cercare di accontentare le sue richieste e anche di aprire un quadro più generale sul sistema sport e dunque non solo calcio. Plauso allo sfogo, pure condividendone i contenuti anche da parte delle cd del basket e pianeggiani e di quello della vallannuoto Campania.